Cos'è successo? Guarda! Guarda che cos'è capace! È stato papà? È stato qui. E ha fatto pezzi in mio prada. Comunque è capito, eh? Io non autorizzerò mai delle immagini in cui non sono bellissimo e giovanissimo. Allora non ci saranno immagini due in questo video. Grazie a nizza. Si, non mi tradisce. Mi lascerà. Non so, mi lascerà. Chi era alla porta? Un fornitore, eh? Ma anche la parma è vegetale. E quindi adesso i fornitori vengono direttamente a casa la sera. I fornitori vengono a rompere i coglioni la sera del nostro anniversario. Basta, basta, basta. E come se non bastasse, i fornitori si baciano in giardino i padroni di casa, eh? Invece l'ho visto. E ho anche visto tutti i messaggi di Riccardo. E adesso chi è, Riccardo? Il fornitore! È quello che fornisce Simone. Da due anni, no, se non sbaglio? Sì, sì, due anni. Papà. Leone. Ti spiegherò tutto in un canale. Come è potuto? Tu mi spieghi come cazzo è potuto? Mi fidavo di te io. Ma è la prima cosa che ho trovato. È Prada. Oh, I always envied your style, refined but never pretentious. Bravo. Vai via, vai. Vai a fare in culo. Non torneremo in più. E questa? E questa? Ops. Mi dispiace, Pa. È lui. È lui che ti mette in testa queste stronzate, dire la verità. Ma certo, è stato a scuola, l'hai visto. Senti, tu non ci devi più parlare con lui, hai capito? Tu non devi più vedere quello lì. Mai più. Ti sembra di esagerare, papà? Esagero io? Ma da che parte stai, amore? Io non so, dalla parte di nessuno, papà. Bene. Vuoi andare ad abitare con lui? Vuoi abitare con lui? Vai. Lasciami anche tu, vai. Con te non si può parlare, non si è mai potuto parlare. Non ascolti un cazzo, papà. Tu dopo vent'anni non lo sai ancora di cosa posso essere capace. Minaccia, tanto ho registrato tutto, ho registrato. Avanti, minaccia. Ho registrato tutto. Signore, cazzo, non è partito, cazzo. Cazzo, non c'è il mosaico in saldo? Eh? Ma che negozio è? E non è il mosaico in saldo. Abbiamo tutti fatto delle cazzate in questo periodo. Scusaci tu, tesoro. Va tutto bene. Va tutto bene, ok? Va tutto bene. Odi, voglio svenire. Dattemi una seggiola. Andiamo. Ho perso 40 anni di vita.